Nel senso che Pioli, secondo me, ha bisogno sempre di un po' di suggeritori, ha bisogno di qualcuno, vedi Ibrahimovic in squadra, vedi Sacchi dietro le quinte, vedi qualcuno che in qualche modo lo possa aiutare. Lasciato un po' in balia di se stesso, va un po' nel pallone. Io ho la sensazione che lui voglia fare grandi cose, si riempia anche molto d'orgoglio, si riempia anche molto d'orgoglio nel voler fare un gioco moderno, un gioco europeo, ma poi non lo sa fare. Ho paura che questo dinamismo, come nell'anno scudetto che per carità gli va dato merito, però il Milan in questi ultimi anni ha troppi alti e bassi e delle pause spaventose, in cui veramente imbarca sconfitte o pareggi contro squadre con le quali non devi pareggiare, proprio perché ha questo vorrei ma non posso. Vuol diventare una grande squadra simbolo in Italia o addirittura in Europa, ma si riempie troppo il petto di una presunzione che non può essere in qualche modo corroborata dai fatti e dai giocatori per come si esprivano in campo.